Nata a Napoli, si trasferisce a Roma, dove intraprende la carriera d'attrice prima nel cinema e subito dopo in televisione. Il suo film d'esordio è finalmente soli. 1997, regia di Umberto Marino, a cui fanno seguito Besame Muccio, regia di Maurizio Ponzi, e Amor nello specchio, regia di Salvatore Mayra, entrambi del 1999. 1999, nel 2002 è la protagonista del film di Pablo D'Amico, Nicop, nel 2003 ha un ruolo di rilievo in tutto in quella notte, diretto da Franco Bertini, ed è protagonista del cortometraggio Non può piovere per sempre, regia di Alfio D'Agata, nel 2006 è protagonista, insieme a Neri Marco Re e Vincenzo Salemme, di Baciami Piccina, diretto da Roberto Cimpanelli, Numerosi i suoi lavori per il piccolo schermo, tra i quali ricordiamo, le tre stagioni della serie TV Orgoglio, il film TV La Luna e il Lago, regia di Andrea Porporeiti, in cui è ancora protagonista. È la miniserie TV Io non dimentico, regia di Luciano Dorisio, in cui è protagonista, insieme a Manuela Arcuri e Brando Giorgi. Nel 2007 il suo nome comparino alcune intercettazioni tra Berlusconi e l'allora presidente della Rai, a proposito di presunte raccomandazioni, che non portano però a nessuna partecipazione dell'attrice a programmi Rai. Nel 2009 è presente in numerosi set cinematografici Baria di Giuseppe Tornatore e Ce n'è per tutti, di Luciano Melchionna oltre alla fiction L'onore e il rispetto. Nel 2014 è protagonista della fiction Furore, vincitrice del Telegatto alla Miglior Fiction 2014. Nel 2016 prende parte alle riprese di Furore 2.